La città di Corelliano Rossano torna ad essere capitale del Beach Volley, ospitando per il secondo anno consecutivo l'evento internazionale Beach Pro Tour Futures. Il circuito del Beach Pro Tour 2024 è il più importante al mondo per la disciplina. Parteciperanno i migliori atleti al mondo in base alla propria posizione nel ranking mondiale. L'evento è stato presentato mercoledì 28 agosto sui campi in via Cristoforo Colombo, zona ex Lido Nettuno, sul lungomare di Schiavonea. Sì, siamo felici che Corelliano Rossano possa ospitare per la seconda volta a questo torneo mondiale. Stiamo lavorando tanto affinché la città diventa un punto importante dal punto di vista sportivo, non solo sportivo perché questi eventi comunque sono eventi che attirano anche un turismo, il turismo sportivo su cui stiamo puntando tanto. Il secondo anno che abbiamo l'onore di poter essere a fianco anche alla federazione in questo progetto. Tanti sono le nazionalità che sono rappresentate, 21, oltre 50 squadre che si alterneranno in questi quattro giorni di torneo. Insomma, saranno giornate importanti, giornate in cui la città splenderà ancora di più. Un momento per destagionalizzare anche la stagione turistica, un momento per invitare anche chi non è amante dello sport a visitare la nostra città. Sì, questo è un motivo grandissimo, orgoglio e piacere per noi. Noi facciamo parte del comitato organizzatore avendo messo a disposizione tutte le nostre, diciamo, la nostra struttura sia da parte dello staff tecnico sia anche di tutti i nostri atleti, i nostri ragazzi che faranno servizio campo. E questo per loro sarà una bellissima esperienza per il secondo anno di seguito. Questa è una città dove si respira lo sport e si respira soprattutto ballavolo. Per cui questo è un momento di grandissima crescita. Noi, come chi ci conosce sa benissimo, puntiamo alla crescita dei nostri ragazzi, una crescita fisica ma anche e soprattutto mentale e di accompagnamento dei valori dello sport. Questa è una manifestazione internazionale che per il secondo anno verrà fatto da noi, quindi per noi è un grande motivo di orgoglio e di grandissimo piacere. Sì, perché l'anno scorso ero qui, abbiamo cominciato con un po' di fatica. L'anno scorso è il primo anno, abbiamo vinto molto bene, quest'anno siamo partiti molto bene con l'argantici per far ricevere un feedback molto positivo. E' un po' bellissimo, si gioca due contro due ed è... sei sempre protagonista. Magari, specialmente i primi peggiori nella pallavolo si gioca in sé e uno tocca poco la palla. E qui la palla la tocchi sempre, quindi si è protagonista. E dal primo momento in cui entra in palestra, quando esce, per cui è bellissimo. Poi si gioca all'aperto, si sta bene. In realtà si gioca anche molto a chiuso in altre regioni, però sono dei posti fantastici e lo consiglio a tutti quanti. Allora, noi portiamo atleti da tutto il mondo, da tutti i continenti, non ho rivisto la lista, comunque l'anno scorso c'erano giapponesi, c'erano australiani, americani, sudamericani, europei. E quindi portiamo e facciamo vedere un sport, qui invitiamo i giovani a vederlo e poi a praticarlo. Grazie a tutti.